Ciao bimbi, siamo Alida e Novella dei Genitori da Favola. Il libro che abbiamo scelto oggi per voi, dalla bibliografia Estate coi libri 2023, è dedicato alle prime e alle seconde. Categoria Vecchie Conoscenze. Ma io li conosco, ma me lo ricordo. La strega Rossella, Pesciolino, Gruffalò, Zog, Zog e Medici Volanti, sì. Il libro di oggi si intuola quei brutti scelti. Ci sono tre personaggi brutti davvero. Lo spettro, la strega, il troll e una bambina a cui vogliono rubare un fazzoletto. Un tempo nel bosco viveva una gang, tre maleducati che parlavano in slang, uno spettro, un troll e infine una strega che per motto avevano. Ma chi se ne freda? La cosa più brutta della tetra congrega, lo spettro, il troll, la strega, era che erano convinti di essere vedivi, contenti e felici di essere cattivi. Riusciranno quei brutti ceffi a rubare il fazzoletto alla povera bambina? Secondo voi non vi resta che leggerlo?